La Sardegna è una terra molto orgogliosa di se stesso e fa anche bene perché è una terra. Ce lo dico, a quanti di voi sta sul cazzo Marco Canta? Lui non rappresenta la Sardegna ragazzi, è inutile. Marco Canta Tatuno! Marco Canta è merda! Qualc'è il elemento per un nano pronto? No, spesso, spesso che io lo stimo, spesso cosa dicono gli altri. Vediamo quanti sono gli altri ascoltatori dello zoo. Quanti di voi vorrebbero ammazzare Maurizio Costancio? E' suo marito la De Filippi? Scusate allora, a De Filippi fa un programma che si chiama Amici e si stanno tutti sul cazzo, vero? Poi fa un programma che si chiama Uomini e Donne e son tutte le puttane i proti. Chi è che siano tutti i coglioni dello strapotere di Barbara L'Urso? Ragazzi, diamo tutti i momenti, ce l'hai anche nel cappuccino al mattino con queste cazzo di tette e la masca? Basta! Ma il grande fratella? Ma basta! Ma qualcuno di voi lo guarda, la messa mente, tu stai sento che ti fai le seghe guardando il dici quadro, che il mio piede si gira di spalle dallo schifo, smettila! Ci hanno messo un transessuale che è già più maschio di te, pensa, incredibile! Poi scusa, parlando in televisione, la Sardegna è stata vittima a una delle prime del digitale terrestre, che è una merda! Non serve un cazzo! Allora, stasera ci hanno messo in una camera d'albergo e dico, oh, proviamo su digitale terrestre. Vedevo, Rai 1 vale, Rai 2 è una merda e Rai 3, fine. Che cazzo serve il digitale terrestre? Pagate 30 euro di decoder per vedere mio, 20! Hai pagato per vedere mio, 20! L'unica cosa bella di Emilio, vedi quando ci sono le meteorine, che quando c'è comune gli escono i pulmini dalla fredda! Ma non è il penero! Ma ragazzi, vabbè, abbiamo cerrato prima la politica, siete d'accordo che i nostri politicanti sono dei figli di puntana, no? Però c'è da dire che Berlusconi ha detto che adesso l'Italia rifiorirà, ha cominciato a congimare la merda, con calma ragazzi! Prima un po' di merda, poi piano piano riferiremo! Berlusconi mi sta fermando l'isola! C'è una casa tua nella staccontenza di libero in Roma ucraino! Ma no, io devo difendere Marrazzo, sì! Marrazzo è il primo politico che ha provato quello che noi proviamo da 60 anni, l'ha presa nel culo ragazzi! È un errore italiano! C'è anche l'Usturia, questo è vero! Attenzione amici, è il momento di presentare un uomo, vorrei un grosso applauso per questo uomo, perché lui è cattivo, il massimino di quarto gioco! Massimino, ma cos'è che ti putti dai pataloni? Se hai fatto un uccello! Va beh, spetti che devo dire un altro a tutti che forse non ho sapeglie, ma... ...quete tutti... ...di scemi di merda! Volevo salutare il Giovannino Giappia De Grasso, che è venuto con me il booster! E l'acqua stasera, stiamo venuti con le moto d'acqua! Cosa c'hai? Oh Giovannino! No, io lo scatti! Cosa c'hai? Cosa c'hai? Cosa cazzo vuoi? Ehm! Raffa! C'è una maniglia a cucirti da uno schiaffo da questa parte all'altra parte e ti girano per vergogna! Oh, Massimino! Ma se vuoi con lui, va! Lui ha detto che ti spacca! Io ti spacco! Ti spacco! Tu mi spatti? Sì! Sì! Allora deve essere buona la palla! Ragazzi facciamo un applauso a Polonois! Allora... Voi conoscete alcune vite da 12-105, vero? Le mette... 8 per 8, 48! Mette la sigla! Bastardly mad! Come le potenziali? Dici 8 per 8, 48! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Scaricate subito la nuova sulleria di un colloquio nell'ufficio di Lene Mora! Cosa c'è? 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 di Giulio Andreotti in diretta da Paola Perego. Che cazzo da vedere, c'ho una palla di pelo in gola, ho fatto un pompino con tutte le palle ma hai messo il pelo. Buonasera senatore Pietro Giulio Andreotti che me sta pippa la forza, non è il bamba il fuoco eh. Ecco allora il senatore Pietro Giulio Andreotti ci parla di gente di interne delle politiche giovanili. Che è? E' bello il soffitto, si sta a specchiare, che cazzo sta a fare? Ah ho capito, sta facendo un pompino all'uomo un vistibile, dovevole, dovevole. Sai che mi ricorda moltissimo Paolo Nois una sera che stiamo usciti dal mio dio al celibato, no, è venuto con due anni a poco. Eh però ti stai prima avanzato cosa vuole, per dire. Facciamogli un aplauso, vuole il pari ragazzi! Oh ma no! Ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Noi, non lo so, ma non lo so, ma non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. C'è bravo noi che stiamo uscendo il collo, il pane ma non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Allora, non lo so. Ciò che conosco ma stiamo vendo solo Nel centro 5 è il tuo tempo Ma non stoppiamo vendo solo Vai insolito No, 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 no No, a noi stiamo vendo solo Nel centro 5 è il tuo tempo